Allora intanto ci troviamo qui oggi per questo evento particolarmente per me importante perché è la prima volta che la Calabria si propone su un tema così diciamo delicato e anche di valore e l'obiettivo di questa giornata è proprio quello di dimostrare che la Calabria c'è, vuole esserci su un tema del digitale che non riguarda solo la pubblica amministrazione ma riguarda le imprese. Oggi ci sarà un confronto tra pubblica amministrazione centrale, pubblica amministrazione locale, imprese nazionali, anche multinazionali e imprese locali. L'obiettivo è quello di cercare di valorizzare, per venire alla sua domanda è valorizzare le imprese locali, il tessuto imprenditoriale delle piccole imprese digitali calabrese e farle crescere perché questo settore, questo ambiente possa diventare effettivamente un motore di sviluppo della Regione. La Regione ha le carte in regola per farlo, ci sono le università, ci sono i centri d'eccellenza, ci sono una rete di piccole imprese che sta crescendo quindi c'è la possibilità di mettere a fattore comune tutti questi fattori per poter generare crescita e sviluppo in questo ambito. La giornata c'è un primo panel con i saluti del Presidente e poi una serie di interventi, il primo panel è sull'ecosistema digitale della Regione, del mondo imprenditoriale e della pubblica amministrazione regionale. Interverrà alla fine del primo panel Mario Nobile che è il direttore generale di Agid e interverrà dopo anche Monsignor Paglia che è un intervento per me molto importante nel senso che è una persona, sua eccellenza, che riveste un ruolo particolare nell'ambito del Vaticano perché è la persona di punta che affronta i temi dell'intelligenza artificiale dal punto di vista etico. Quindi ci farà uno speech di pochi minuti su questo argomento che secondo me è molto interessante. E poi ci sono tre panel contestuali, uno sulla sanità, uno sulla cyber security e uno sui trasporti. E dopo un breve launch ci sarà l'ultimo panel sul porto di Gioia Tauro e sulle attività imprenditoriali. In questi panel sono previste presenze di personaggi, persone che hanno un'esperienza da portare a contributo sia a livello nazionale che a livello locale. E anche un confronto con le nostre dirigenze, con i dirigenti regionali e anche con la pubblica amministrazione locale. Sono molto grato all'assessore Pietro Paolo che ha la delega a seguire questa materia per gli sforzi che sta facendo in questa direzione. Non va tutto bene, siamo indietro. Sono indietro i comuni della Calabria, indietro la regione, indietro il sistema sanitario regionale per quanto attiene ai processi di digitalizzazione dei sistemi stessi. Appena mi sono insediato ho verificato che è in regione, è nelle aziende sanitarie, spesso l'analisi dei fabbisogni era fatta dai fornitori, non dai decisori politici o istituzionali. Così non va bene. Stiamo cercando di mettere a sistema le attività che devono essere svolte per rendere più efficiente la pubblica amministrazione e attraverso questo percorso erogare servizi di migliore qualità. Per questo proseguiremo nei prossimi mesi, nelle prossime settimane. Abbiamo in animo di costituire un'agenzia regionale, ci sta lavorando l'assessore Pietro Paolo per fare in modo che i fornitori ci aiutino a realizzare applicativi, sistemi di digitalizzazione ma sulla base di quelli che sono i fabbisogni della pubblica amministrazione. Molto spesso questi ritardi sono dovuti al fatto che nei decisori politici, nei decisori amministrativi, nell'apparato burocratico degli enti ha competenze sufficienti per valutare quale strumento sia più idoneo a realizzare un obiettivo. Quando è così è il mercato che decide. E quando decide il mercato spesso decide sulla base degli utili, dei profitti invece che sulla base dei servizi. Grazie. Ottimo. Manu, bello.